Emergenza assiccità che sta mettendo in ginocchio molte zone d'Italia nel nostro viaggio nella crisi idrica. Siamo andati a Lariano dove l'acqua è razionata in alcune parti del comune. E con Matteo Parlato ci siamo fatti raccontare come i cittadini affrontano la difficoltà. Vediamo il servizio. Il comune di Lariano nel sud del Lazio vive un'emergenza annunciata. Il 23 maggio scorso Acea aveva avvertito Roma e gli altri comuni, serviti dalla Multiservizi, che ci sarebbero potute essere difficoltà nella fornitura dell'acqua. E all'avvertimento aveva legato una mappa dove in giallo si vedono le aree a rischio calo di pressione e in rosso quelle a rischio di interruzione del servizio. E Lariano si trova proprio in una zona rossa e oggi l'avvertimento è diventato realtà. Siamo stati una settimana completamente senza, proprio senza acqua. Come facevate una settimana senza acqua? Senza acqua. La gente per andare al bagno l'ha presa anche la fontana qui in piazza. Oggi in alcune zone del comune l'erogazione dell'acqua viene interrotta dalle 19 alle 7 del mattino. Abbiamo una cisterna esterna. Quanti litri? Saranno 500-600 litri di acqua. E quindi in quel modo abbiamo l'acqua la sera, se no sarebbe impossibile. Dovreste chiudere? Sì, dovremmo chiudere. Mentre in altre il servizio funziona regolarmente. Noi non abbiamo mai avuto problemi con l'acqua. Guarda, questa adesso è perché c'è l'autoclave attaccata, ma se ti faccio vedere stacco l'autoclave. Questa è l'acqua diretta. Però voi avete una cisterna. Noi abbiamo una cisterna, ma per un'eventuale mancanza, se ci fosse. Ma sono due anni e non c'è mai mancata l'acqua. Noi. 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 Noi.